Da ieri il tuo nome mi frulla nella testa, Adam Franco. All'inizio mi sono detto impossibile, non può essere lui. Quante chance avevo che fossi davanti a me. Quanti proiettili ti sei preso? Cinque. Cinque, a bruciapelo. Avrai qualche segno, no? No? È vero che quando mirasti alla polizia avevi l'arma scarica? A quindici anni. Ci vogliono due coglioni così. Benvenuto in famiglia.